Corri Calimero, è arrivato il cugino Teofilo! Oh oh, il capellone! Ciao Teofilo! Ehi Calimero, namo che ti accompagno al Luna Park! Boxe! Ah Calimero, tu tiri di boxe? Io no, e tu? Io? Ero il campione del mondo! Ta-na-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Ma sei tanto bravo, perché hai smesso? Sono troppo forte! Nessuno vuole più battersi con me! 10.000 soldini di premio a chi accetta di battersi con l'imbattuto campione del ring! Chi vuole provare? Forza, accetta la sfida! Fali vedere che sei il campione del mondo! Beh, veramente? Sei il campione del mondo! Vogliamo vedere il campione del mondo? Bestia, com'è grosso! Forza, cugina Teofilo! Ehi! 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 Ho preso di sorpresa, ma ora fagli vedere chi sei! Lo faccio vedere subito chi sono! Ma teofilo! Ma battete via piccolo sgorpio! Che maniere! Qui fanno sempre così perché loro sono grandi e io sono piccola! È ingiustizia però! Siamo alle solite, Calimero! Sei solo sporco! Là! È un lava come lava! Un perborato stabilizzato! Ava per lavatrici è diverso perché ha il perborato, ma è perborato stabilizzato! Ecco perché Ava per lavatrici lava più bianco! Ed ecco perché anche dopo anni il tessuto tiene! Tiene! Perché il perborato di Ava per lavatrici è perborato sì, ma stabilizzato! E nel fustino di Ava lavatrici 100 punti del concorso Miralanza! Grazie a tutti!